NINFEA A-S-M-R Quest'oggi dopo tantissimo tempo torno con una videoricetta e ho scelto di preparare per voi un piatto tradizionale della mia regione Si tratta dei pezzoccheri della Valdellina anche se in particolare i pezzoccheri sono originari di Teglio che appunto è un paese della Valdellina Si tratta di un piatto molto ricco, è un piatto invernale che è a base di questi pezzettini di pasta fatti con la farina di grano saraceno Quindi è una varietà di pasta che risulta piuttosto scura Adesso prima di partire con la ricetta vi mostro nel dettaglio gli ingredienti e vi spiego qualcosa dei vari ingredienti Motivo per cui mi sono messa alla fotocamera, diciamo puntata verso di me e ve li presenterò questa volta in questo modo Allora partiamo dai protagonisti come dicevo Serve la pasta Questi sono pizzoccheri della Valdellina IGP E come vedete All'interno della confezione sono queste mini tagliatelle piuttosto scure Questa è la versione secca, ci sono anche i pizzoccheri freschi e si possono trovare in realtà di varie dimensioni C'è chi li cucina proprio fatti lunghi come se fossero delle tagliatelle Però generalmente io li ho visti più spesso fatti in questo formato più corto Dietro c'è anche la ricetta Vi lascio diciamo la ricetta che c'è scritta sulla confezione Anche se poi io andrò a fare qualche piccola variazione Soprattutto io dei pizzoccheri vado abbastanza ad occhio perché preferisco magari avere più patate, più verdura Vi faccio vedere tutto quanto Sappiate che questa marca è molto valida Moro Poi oltre ovviamente alla pasta ci servirà del burro Qua ne ho già usato un pezzettino Perché l'altro giorno ho fatto il risotto alla zucca Quindi abbiamo il burro Allora la ricetta originale dice che ce ne vuole davvero tanto Io non voglio usare più di metà di questo panetto Perché insomma ok che più burro c'è più sono buoni Però anche la salute è importante Poi ci servirà dell'aglio Questo è aglio di parzi che mi piace un sacco È un aglio non eccessivamente forte ma bello profumato Top Poi per quanto riguarda la verdura Io le ho visti fare in 100.000 modi Solitamente la ricetta più tradizionale vuole la terza Alcuni usano le coste, altri gli spinaci, altre erbe Io questa volta ho preso questo che è una simile terza Nel senso che è cavolo cappuccio Che a differenza della verza ha rifoglie lisce E può essere mangiato anche crudo In realtà il sapore poi cotto è molto molto simile a quello della verza Ho preso questo per un unico motivo Perché era quello più piccolino che aveva notato a essere lunga Perché le verze erano giganti E probabilmente non sarei riuscita a mangiarla tutta E sarebbe andata spregata Perché il mio compagno non ha mai voluto le verze Quindi ho detto vabbè prendiamo il cavolo cappuccio Che intanto è molto simile come sapore Poi serve della salvia La salvia è comunque un ingrediente molto importante Per dare quel caratteristico gusto ai pezzoccheri Serve del parmigiano Io come vi dico spesso nelle ricette in cui il parmigiano viene cotto Viene fuso eccetera Non vi faccio troppi problemi a usare quello in busta Perché quello di Ferrari non è male Questo qua E infine altro protagonista insieme ovviamente alla pasta Insieme ai pezzoccheri di grano saraceno Il formaggio è il formaggio Allora per i pezzoccheri solitamente si possono usare Come regola generale due tipi di formaggio Quello proprio ottimale è il pitto 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 Ma si può utilizzare e vi assicuro che è ottimo E forse io lo preferisco Il casera Che è sempre un formaggio valtellinese E io ho questo Della Fiorita azienda agrituristica Valtellina casera top Formaggio dopo Partellina casera Vi faccio vedere la costa del formaggio perché c'è proprio la scritta dell'azienda E una volta che viene cucinato Che viene cotto Io poi i pezzoccheri li ripasso in forno Vi farò vedere tutti i passaggi Si infonde Diventa affilante È saporito È buonissimo Ragazzi Spettacolo Quindi Come formaggio potete scegliere o il pitto O a mio avviso ancora meglio il casera C'è anche un'informativa dentro C'è il giornalino della Fiorita Non lo sapevo Beh lo leggerò con molto piacere Spiegano come fanno i loro vari prodotti Bene Poi ve lo leggerò Quindi Ah no e poi ragazzi vi stavo dimenticando Servono anche delle patate Non preoccupatevi perché sotto in infobox vi metto tutti 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 gli link Ingredienti che andrò a utilizzare nel corso di questa ricetta Queste sono due patate Abbastanza grosse A me piacciono i pezzoccheri abbastanza patatosi Poi in realtà devo vedere se utilizzerò realmente entrambe Insomma quando vado a tagliare gli ingredienti mi rendo conto ad occhio Quali sono le proporzioni giuste Ma vi farò vedere tutto quanto Io farò la ricetta per due persone Perché siamo appunto in due Bene Adesso che vi ho mostrato tutto quanto Passo a un'altra inquadratura E andremo a fare effettivamente la ricetta Non so ancora se utilizzerò un po' i software Oppure se riuscirò a parlare Perché è sempre un po' complicato registrare le ricette In quanto ho varie postazioni Devo spostare la fotocamera Non sempre posso avere il microfono vicino Quindi vediamo Lo scopriremo in corso d'opera Quindi preparatevi a seguire tutti gli step Parto tagliando tutti gli ingredienti che mi servono Guardate anche che carina questa toglietta di Natale Io adoro questi ignomi Comunque Prendo il tagliere E parto Il cavolo cappuccio Faccio delle striscioline Abbastanza fini Ripeto La mia verdura preferita solitamente è la verza Però Non c'era E metto tutto all'interno di un piatto Ok Bene La quantità È più o meno questa Fate conto che Poi andrà sicuramente a ridursi Nel momento in cui Lo andiamo a cuocere Solitamente la verza La faccio un pochino Più grande Come spessore Ma il cavolo Lo preferisco così Perché rimane un po' più stagno A questo punto Mi occupo Delle patate E vado per prima cosa A pelarle Usa un semplice Per le patate Sentite che per le sue Che fa Nella seconda parte Della ricetta Dobro per forza Chiedere aiuto Al mio compagno Perché Difficilmente riuscirò ad usare Inquadrature fisse Credo che sia Un germoglio L'ho comprata già così Perfetto Queste bucce Le metto da parte In realtà Le butterò nel lumido Perché Non ho mai trovato Delle ricette Convincenti Da fare Con le bucce Di patata E Taglio La patata A piccoli cubetti Anche in questo caso Non mi piace avere Cubetti Eccessivamente Grandi Anche perché Altrimenti Fanno fatica A cuocersi Quindi Ora Li faccio vedere Li faccio più o meno Di queste dimensioni Adesso cercano di capire se una patata grossa può essere sufficiente per il nostro scopo Oppure se mi conviene Farne un'altra Però in realtà Mi sembra che Cioè Diveso due Mi legge Un bel blocchetto di patate Quindi Mi fermerei qui Con questa Quantità E adesso Procedo con il preparare Anche gli altri ingredienti Eccoci Eccoci qui Ho pulito il tagliere Dall'amido delle patate E ho fatto la stessa cosa con il coltello Ora prendo il formaggio E taglio un pezzo generoso Vado a rimuovere la crosta Quindi rimuovo la crosta E vado a tagliarlo A pezzi Bastanza piccolini Perché Nel momento in cui andrò a comporre i pizzoccheri Dovranno Sciogliersi per bene In forno E quindi è meglio che siano dei piccoli dadini Almeno per quella che è La mia esperienza Ok Ecco questa è la Quantità di formaggio Che andrò a utilizzare Di formaggio casera Perché poi useremo anche Il parmigiano Ho già capito che verrà Una quantità molto molto superiore Alle due persone Ma vabbè Sono ottimi anche riscaldati Quindi non c'è veramente problema Accendo il gas sotto Alla pentola Già piena d'acqua In modo che inizi a bollire E metto alcune foglie Di salvia Già lavata ovviamente All'interno di un padellino Che già contiene aglio Poi prendo il burro E ne taglio Metà panetto E credetemi Sono stata anche abbastanza Parca di burro Perché la versione Poltellinese originale Naviga nel burro Comincio a far sciogliere Piano piano Il burro Insieme all'aglio Insieme alla salvia Fuoco basso E poi vado a salare L'acqua della pasta Con il sale grosso Andate ad occhio In base alla quantità di acqua Che avete messo all'interno Della vostra pentola Intanto lasciate Sciogliere il burro E fate in modo Che l'aglio Impiontisca un po' Ecco qui I nostri ingredienti Che abbiamo precedentemente Preparato Vado a mettere Prima di tutto Le patate All'interno Della mia pentola L'acqua Che sta bollendo E poi Aggiungo anche La verza E le lascio cuocere Per qualche minuto Tre o quattro Minuti Facendo riprendere Bullore All'acqua Mescolo un po' Per amalgamare E passati questi pochi minuti Aggiungo anche La pasta Alla stessa padella Una ricetta facilissima Mescolo un pochino E imposto il timer A 12 minuti Deve cuocere il tutto A 12 minuti A questo punto Sono pronta A creare la mia teglia Faccio un primo strato Di pinzoccheri Di pinzoccheri Patate E verdura In questo modo Cercando di Gestire gli ingredienti In modo che Tutte le parti Della teglia Abbiano più o meno La stessa quantità Di patate Di perza E di pasta Poi metto Come vedete Uno strato di burro E uno strato di formaggio Casera Tagliato piccolo E poi Vado a mettere Anche una dose Generosa Di Parmigiano Che renderà Il tutto Super super Filante Poi faccio Un altro strato Con gli altri Ingredienti Prendendoli con la schiumarola Direttamente Dalla Pentola Quindi andandoli a scolare Con la schiumarola Scolandoli per bene Perché Il tutto Non deve assolutamente Risultare Acquoso Le patate Sono già ben cotte Ma andranno a dorarsi In forno Metto Un secondo Strato Di burro Facendo attenzione A metterle In modo uniforme In tutti gli angoli Della teglia E lascio cadere Anche la salvia Io ho tolto Gli spicchietti D'aglio Erano Quattro Pezzettini Insomma Due metà Ma se voi Volete un gusto Ancora più intenso Potete lasciarli Anche durante La cottura In forno Distribuisco La salvia In modo che Il suo aroma Sia Uniformemente Distribuito Sulla teglia E vado a completare Con lo strato Di formaggio Casera Sempre Uniformemente Distribuito In tutti gli angoli In questo modo E poi Do un ultimo Giro Ovviamente Anche con Il parmigiano Intanto Qui sto cercando Di Distribuire Bene Il formaggio Vado Con lo strato Di parmigiano Reggiano Va bene Anche il grano Padano Se non avete Il parmigiano Però Diciamo Che dà Proprio Un gusto Ancora più Formaggioso Ancora più Sapido Al piatto E ci sta Benissimo Confidatevi Ora vado A infornare Per una decina Di minuti O almeno Finché tutto Il formaggio Non sarà Ben sciolto A 180 Gradi E questo È il risultato Finale Come vedete Il formaggio Si è fuso Completamente E i pizzoccheri Hanno un aspetto Spettacolare E filante Eccoci qui Abbiamo appena tirato fuori I pizzoccheri Dal forno Che si sta ancora lamentando Spero Non dia troppo fastidio All'audio Adesso Ve li mostro Cercando di fare attenzione Perché ovviamente Sono molto Molto caldi E sono Super Super Filanti Guardate che belli Li vedete Eccoli qua Non posso Inclinarli Oltre O rischiamo Di cadere Ma non vi preoccupate Perché adesso Andrò A metterne Una porzione All'interno Del piatto Per farvi vedere Quanto sono Filanti Quindi Adesso Andiamo a porzionarlo Subitissimo Vado Cioè Guardate La filanza Di questo Formaggio Non so se Rende l'idea È Filantissimo E non vi sto a dire Il profumo Questi sono I miei Pizzoccheri Della Paltellina La salvia Io la lascio Perché È un sapore Che personalmente Mi piace E poi non la mangio Però La succhio Per Avere proprio Tutto l'aroma O io Sono trasparente Vi dico le cose Come stanno Quindi adesso Vi saluto Perché Questi ce li andiamo A pappare Ma non farò Il mukbang Perché voglio Mangiarli Col mio compagno Bene Vi mando Un bacione E se rifate Questa ricetta Super Lombarda Super Paltellinese Attaccatemi Su Instagram Così Vi riposto Vi consiglio Di provare Questa versione In forno Perché veramente Merita Giù nell'info box Vi lascio Tutto preciso Gli ingredienti Il procedimento E tutto quanto Per la mia versione Di nuovo Un bacio grande E al Prossimo 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 Video Buonanotte E buon appetito A me Ciao 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 Buonanotte 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 Buonanotte